Musica Questa Olimpiade per me è senza dubbio il sogno che si avvera perché sin da quando ero bambina, da quando ho iniziato a fare ginnastica di un certo livello il mio sogno era andare alle Olimpiadi Musica Quello sarebbe il più grande sogno della mia vita Tu rappresenti l'Italia e indossi quei colori e ne vai fiera Musica Musica C'è la sua faccia prima di cominciare l'esercizio e da lì si capisce che lei vincerà il mondiale Musica A fine quando stampa il doppio carpiato di finale per me ha vinto Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.